Buongiorno, oggi vi presento la rivisitazione dei salti in bocca alla romana utilizzando il mini pane di cristallo. Andiamo a tagliarlo. Vedete come la cottura su pietra lo rende croccante e fragrante, con una buona alveolatura. Lo andiamo a realizzare con questo arrostino di maiale che potete comprare già fatto o semplicemente utilizzando una lonza di maiale fresca cucinarla in forno per alcune ore a 180 gradi. Ora andiamo a cucinare la pancetta all'interno della nostra padella. Aggiungiamo anche delle foglioline di salvia, questo ci servirà poi per farcire il nostro panino. Andiamo a realizzare adesso una salsa da accompagnare al nostro mini pane di cristallo con maionese, tequila, ho già aggiunto dell'erba cipollina, bastano poche gocce di tequila per rendere una salsa come questa bella e gustosa, piacevole, una grattugiata di pepe. Andiamo a comporre ora il nostro panino utilizzando la maionese e la tequila, mettendo all'interno del panino dell'insalata per renderlo piacevole anche, aggiungendo il nostro arrostino di maiale. In ultimo completiamo il tutto con la pancetta che abbiamo passato in padella oppure anche ripassato in forno. Aggiungiamo ancora delle foglie di salvia per richiamare l'idea di salto in bocca e chiudiamo il nostro panino. Andiamo a tagliare ora il nostro mini pane di cristallo in due sezioni e lo andiamo a sistemare all'interno di due coni fatti con della carta di giornale. Ecco qua i nostri salto in bocca con mini pane di cristallo.